La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa Oggi venerdì 24 gennaio, partiamo subito con i titoli del mattino Andiamo a vedere L'apertura Berlusconi, Blinda Caldoro sarà il candidato di tutti Il leader di Forza Italia Anche la Carfagna lavorerà per sostenerlo A Bibiano la sfida Lega Sardine Crimi, Movimento 5 Stelle Non sarò un passacarte Sempre di taglio alto Virus in Cina, 20 milioni in quarantena Paura in Europa Ma l'OMS frena Non è pandemia Bari, allarme per un italiano al rientro Gli scienziati, l'infezione dai serpenti Il virus cinese mette sempre più paura Ma l'OMS frena Non è pandemia In Cina 20 milioni di persone in quarantena Quattro città isolate Misure di prevenzione negli aeroporti Al centro pagina L'esperimento avvola Così papà picchia mamma La violenza ora si cura in 3D Ancora il CDM approva il decreto Tasse sul lavoro Taglio per 6 mesi Conte più soldi in busta paga Via libera la riforma del cuneo fiscale Ma solo per 6 mesi Il testo dispone in via sperimentale A partire da luglio Più soldi in busta paga Conte esulta Napoli, mafia tour nei luoghi del clan Sfregio alle vittime L'annuncio sui siti di viaggio Poi cancellato Il papà di Annalisa Durante È una vergogna Il mafia tour a Napoli L'ha ideato un ragazzo Che ha girato mezzo mondo Un affare almeno tentato Pubblicizzato online Con una formula spietata Diventata marchio all'estero Ma è rivolta a Napoli E poi c'è il commento Se lo stereotipo diventa condanna Di taglio basso Il caso Roma Da ex suore a prostitute Il papa dona una casa rifugio Sulla strada di notte Un minuscolo crocifisso in tasca Un destino ormai segnato I clienti che si fermavano Non sapevano che un tempo Era stata una suora Come il caso drammatico Di una giovanissima filippina Che una volta fu riuscita Dalla congregazione Alla quale apparteneva Ha visto chiudersi piano piano Tutte le porte Le possibilità che aveva alle spalle E così da un giorno all'altro Si è ritrovato da sola Fino a che non si è dovuta Prostituire Di vicende così Purtroppo ce ne sono anche E altre Non si tratta di casi isolati Papa Francesco Proprio per evitare Derive tanto drammatiche Per dare un aiuto concreto All'ex suore Che decidono per l'appunto Di lasciare il cammino religioso Ha deciso di aprire Una casa a Roma Anche se nessuno ha voglia Di dare troppe coordinate Sull'ubicazione dell'edificio Per evitare il clamore E la morbosità Lasciamo la prima pagina Ma restiamo sempre sul mattino E andiamo a vedere Il primo piano Sull'epidemia Che sta colpendo la Cina La polmonite cinese Cina 20 milioni in quarantena OMS Non è emergenza globale L'organizzazione mondiale della sanità Fuori dal paese asiatico Nessun contagio Da uomo a duomo Altri morti Recovery Scozia e Irlanda Allarme Bari Per un'italiana Rientrata da Wuhan Positiva al microplasma Nel dettaglio Il contagio è rapido Il virus si trasmette Da persona a persona Molto facilmente Di quanto si pensasse Avvertono gli esperti Dell'organizzazione mondiale della sanità Che stanno raccogliendo informazioni Sull'epidemia Tanto che sigillare le frontiere È un atto necessario Quanto disperato Poiché il coronavirus È già in circolazione In tutto il mondo E l'allarme è scattato anche a Bari Dove da ieri Una cantante di ritorno Da un tour in oriente Ha toccato la zona di Wuhan Ed è ricoverata al policlinico Dei primi esami È stata individuata Una positività per microplasma Tale diagnosi È clinicamente compatibile Con la sintomatologia Presentata dalla paziente Non dissimile Dalla malattia causata Dal coronavirus Fa sapere l'ospedale Per la donna Sono state attivate Le normali procedure di cautela Come nel resto del mondo Sottolineano fonti Del Ministero Della Salute E molte delle vittime Con un'età alta Già sono alle prese Con seri problemi Di salute Quindi metropoli cinesi blindate A Pechino A Pechino chiusa la città Proibita E cancellati I festeggiamenti Per il capodanno Scatta la quarantena Sulla base Delle attuali conoscenze Fa sapere la commissione nazionale Per la sanità cinese Il periodo di incubazione Di 14 giorni 20 milioni di cittadini Sono coinvolti Nella gigantesca operazione Di quarantena Dopo Wuhan Blindateang Xianning 2,5 milioni di abitanti E Wangang 6 milioni e mezzo A 60 chilometri Dalla capitale Della provincia di Ubet Ritenuta il focolaio E dove ieri sono stati bloccati Tutti i trasporti pubblici Compresi Treni E aerei Ma come è iniziata Questa epidemia È iniziato tutto Al mercato Colpa di serpenti E pipristelli La promiscuità Tra clienti e animali vivi Destinate al cibo Ha favorito il salto di specie Lasciamo anche questa pagina E ora ci spostiamo Alla pagina dedicata Al primo piano Sulla politica nazionale Andiamo subito a vedere Il primo piano Sul movimento Nel caos Sfida Patuanelli Bonafede Per guidare la delegazione Oggi altre sette espulsioni Guerra per il referente Grillino A Palazzo Chigi La pratica rinviata La prossima settimana Pronta Le scure Sui parlamentari morosi In Puglia e Liguria Cantidati Antidem La prima decisione Del dopo di maio Crea subito Una spaccatura interna C'è da decidere Chi sarà il rappresentante Dei grillini A Palazzo Chigi Due contendenti Da una parte Stefano Patuanelli Dall'altro Alfonso Bonafede Entrambi hanno un ottimo Rapporto con il premier Seppur per motivi E storie diverse Il titolare del Mise Ha condotto le trattative Quest'estate con il PD E molto stimato Dai parlamentari Spinge per collegare Il movimento Tra i riformisti Dunque nel campo Del centro-sinistra Il guardasigilli Invece è colui Che reclutò L'allora prof Conte Proponendolo Come ministro Della pubblica amministrazione Di un governo Pentastellato Che non vedrà mai luce Le sfumature E Bonafede è considerato Un fratello da Di Maio Patuanelli invece Viene visto con sospetto Dei parlamentari Più vicini al ministro Della Farnesina Se Stefano farà Il capo delegazione Facciamo prima Trasferirci tutti Al Nazareno Dicono caustici Parlamentari vicini a Luigi Nel dubbio Anche questa pratica Dipenderà dal risultato Di domenica notte A seconda del successo O meno dei dem Nel dubbio Se ne riparlerà La settimana prossima Magari proprio All'assemblea congiunta Dei parlamentari Magari con un voto In programma martedì prossimo Ecco perché anche Il reggente Vito Crimi Che ieri al senato Illustrato e facilitato Il percorso degli stati generali Temporeggia Sono ore complicate Ma anche magmatiche E nel frattempo C'è Di Maio In fase Zend Convinto che le anime Non riusciranno A trovare una sintesi E per l'elezione Del nuovo vertice Si allungano i tempi Il voto sul Rousseau È atteso ad aprile Ma intanto arrivano Le frasi Di alcuni esponenti politici Di Davide Casaleggio Che dice La sua resilienza Da agonia Ha permesso a Di Maio Di raggiungere Grandi risultati Poi c'è Roberta Lombardi Tutti sono utili per noi Ma nessuno È davvero indispensabile Vincenzo Spadafora Che dice A partire da Luigi Siamo tutti impegnati A costruire il futuro E poi Il referendum A fine marzo Per blindare il governo Taglio dei parlamentari Via libera della Cassazione Due mesi Per ridisegnare i collegi E si arriverebbe Alla sessione di bilancio La scelta Fra le varie opzioni Dipenderà dal clima politico Che si determinerà Dopo le elezioni regionali Lasciamo anche questa pagina E ci spostiamo ora Sulla prima pagina del mattino Dedicata Provincia di Salerno La provincia di Salerno Andiamo a vedere Il titolo di apertura Il reportage Mercanti Botteghe in agonia Chiudono altre attività I commercianti Centro storico abbandonato Il comune assente Tra i negozianti Dopo l'annuncio Dei bandi della regione I soldi non bastano Serve una strategia I 25 milioni di euro A disposizione della regione Per sostenere il commercio A posto fisso e ambulante Le attività artigianali Non sembrano sufficienti Per curare la ferita aperta Di un centro storico Che dalla situazione florida Del terziario di un tempo Neppure tanto lontano Sembra conservare Soltanto la denominazione Delle strade Come via mercanti Nota fin dal medioevo Per la strada del commercio Via botteghelle Via della chiugiole In passato conosciuta Per la presenza di tante attività Di cui oggi non restano altro Che basse Bassi sporcizia E disordine E poi il raid Armato di catena Contro auto e passanti Bloccato e ricoverato Di lato invece La politica Movimento 5 Stelle Tutti con Di maiole Dimissioni E atto d'amore E sempre sulla politica Ora De Luca Apre i 5 Stelle Hanno scosso il sistema E ancora sempre di lato La mobilità Rivoluzione bus Nuovi percorsi Con le circolari Sindacati contro E per l'economia Exporti in crescita Con cibi Bevande e tabacco A Salerno E avanti a Napoli Centropagina Il caso Trovato morto in strada Ferite sul corpo E giallo Pagani Forse un incidente sul lavoro E poi commissione tributaria Lo scandalo Mazzetta e giudici Gli imprenditori Pronti a rimborsare Inizia il processo Per le sentenze di favore E Moriello si difende Dopo l'arresto bis E ancora i controlli Sesso in litorania D'aspo alle lucciole Multiclienti Di taglio basso Lo sport Il calcio e la serie B Salernitana Ventura Ritorno alle origini 3-5-2 contro il Cosenza Cerci e pace A sorpresa Lasciamo questa pagina Lasciamo anche il quotidiano Il mattino E ora diamo lettura Della prima pagina Del quotidiano La città Il titolo di apertura Tangenti Tributaria Milioni Per patteggiare Ai giudici E ai segretari Delle commissioni Fermati nel primo blitz Costerà molto Costerà molto accedere I rite alternativi Chiesti al Gup Interrogato Moriello L'ultimo arrestato Era un autostrada Dovevo consegnare Un curriculum Sotto la testata L'inchiesta Il business Dei rifiuti all'estero Paghiamo tutti I guai di Napoli Sul centro pagina Invece il reportaci Il rudere amato L'ex pastificio Terra di nessuno A Salerno Terrore nel centro storico TSO per il figlio del boss A Pagani invece Il ritrovato cadavere Mistero in collina Capaccio pestum Sfruttati e abusivi Sgomberi a Licinella A Debole invece Processo hospice Raffica di eccezioni Sempre di lato Il blitz Sanità 39 indagati C'è anche Postiglione Ex commissario dell'ASL A Sala Consilina Guidava ubriaco Uccise due persone Condannato a otto anni Sant'Angelo a Fasanella Medico abbandona il luogo di lavoro Scatta la denuncia Taglio basso Anche in questo caso La Salernitana Missione sold out Curva 2300 Contro il Cosenza Il tecnico Ventura Conferma maestro dal primo I campi in città Uno sprint per salvare Gli impianti di periferia Lasciamo anche il quotidiano La città Vediamo ora la prima pagina Del quotidiano le cronache Il titolo di apertura Dedicato alla cronaca Giudiziaria Anche in questo caso A Salerno Giudici davanti ai giudici Sentenza in mazzette Patteggiano in quattro C'è l'ex patron Della battipagliese Due magistrati Chiedono l'abbreviato Mauriello Mai preso soldi E sempre a Salerno Condannato Aurora Visaggi Neonata ferita Durante il parto Assolti due medici Del Ruggi E la polemica Amalfi Costrim La società propone il tour Napoli vista Con gli occhi Della camorra Ad Ebboli Invece No all'archiviazione Appalto mensa Per il GIP Nuove indagini A San Valentino Torio L'assessore Basilice Lascia tra Accuse e polemiche Di taglio basso Non c'era inferiore Continua il botte e risposta Anche 51 Bambini disabili Senza cure Dal centro Angrisani Una risposta All'ASL Nessuna autorizzazione E con questa pagina Si conclude la prima parte Della nostra Rassegna stampa Ora qualche minuto Di pubblicità Ci vediamo tra pochissimo Con la seconda parte Bentrovati Con la seconda parte Della nostra Rassegna stampa Ritorniamo sul mattino Andiamo a vedere Il primo piano Su Salerno La sicurezza E i controlli Prostitute In litoranea Boom di multe D'aspo Toleranza zero In una settimana Fermati 9 clienti E 20 lucciole Scattano anche Gli allontanamenti Molte sono recidive Trans in aumento Nel dettaglio Giro di vite Contro la prostituzione In strada Stop a incontri Arde e donne In abiti succinti Lungo le strade Dell'estrema zona orientale Ad una settimana Dall'entrata in vigore Della nuova ordinanza Antiprostituzione Varata dal sindaco Vincenzo Napoli Il 10 gennaio E già boom Di sanzioni e denunce Per meretrici E clienti Nell'ambito dell'inaspiramento Dei controlli Gli agenti del reparto Motociclisti Del comando polizia municipale Nel mirino Finiscono almeno Tre lucciole al giorno La guerra Al malcostume Colpisce donne Dell'est africane Nell'estrema zona orientale All'altezza Dello stadio Arechi E su via allende Lo stop agli incontri Bollendi in auto Ha permesso in pochi giorni Di sanzionare Già nove clienti Si sono preoccupati Già di pagare il verbale Rivela un vigile La multa Ai sensi dell'ordinanza Del 10 gennaio Ammunta 500 euro Se il trend Dei pagamenti delle multe Da parte della clientela Sarà nei prossimi mesi Così veloce Come viene preventivato Per il comune Potrebbe maturare presto Un bel tesoretto Non si può dire lo stesso Per quanto riguarda Le prostitute Nessuno ha pagato Sebbene siano fioccate Denunce severe E ancora altre misure Anticrimine Risse Spaccio Il questore Punisce le violazioni Mentre proseguono I controlli Da parte della polizia Sui fenomeni Che creano turbative Per l'ordine La sicurezza pubblica Il questore Maurizio Ficarra Interviene valutando Le posizioni Delle persone segnalate E firme i provvedimenti Del caso E in questo contesto Che a seguito Di attenta valutazione All'esito Di una puntuale struttoria Effettuata dal personale Dell'ufficio Misure di prevenzione Della divisione Anticrimine E della Questura Il capo della polizia Salernitana E' emesso tre provvedimenti Di divieti di ritorno In alcuni comuni Del Cilento E del Vallo di Viano Per due mesi Nei confronti Di altrettanti pregiudicati Con svariati procedimenti Per reati contro La persona E del patrimonio Inoltre Nel quadro Dell'attività Di contrasto E prevenzione Delle attività illecite In genere Sono stati adottati Altri provvedimenti Di avviso orale Nei confronti Di altrettanti soggetti Pregiudicati Per i delitti Di rissa Rapine Spaccio Di sostanze Stupefacenti E poi ancora Allarme Coronavirus Dalla Cina Pronte Le ambulanze Asettiche Salerno E' pronta A fronteggiare Il virus cinese L'Humanitas Infatti Mette a disposizione Del servizio 118 Due ambulanze Ad alto contenimento Infettivo Per il trasporto Dei pazienti Al Monaldi Di Napoli Dove devono Confluire Tutti i casi Sospetti Della Campania Lasciamo questa pagina Ma proseguiamo Con il mattino E andiamo a dare lettura Della pagina dedicata Alle zone Della provincia Di Salerno Andiamo subito A vedere Omicidio stradale 36enne Condannato Ad 8 anni Pena di 8 anni Confermata in Cassazione Per Arturo Cavallo 36enne Di Polla Imputato di omicidio stradale Per un incidente mortale Avvenuto in Basilicata Confermata quindi La pena inflitta in appello Dal Tribunale di Potenza Nel giugno di 4 anni fa Il giovane valdianese Fu coinvolto In un drammatico incidente Sulla statale 598 Fondo Valdagri All'altezza del comune Di Marsico Nuovo In Basilicata Nello scontro Persero la vita Franco Apa 38enne di Tramutola E una settimana dopo Anche sua madre Filomena Cavallo Di 67 anni Sempre a causa Delle ferite riportate Nel terribile impatto Il giovane Seguendo quanto accertato Dalle forze dell'ordine Risultò positivo al test Per verificare la presenza Di alcol nel sangue In quantitativo superiore Al limite consentito Dalla legge Franco Apa Era alla guida Di una Renault Cactus Con lui c'era anche la madre Quando si scontrò frontalmente Con l'Audi A bordo della quale Viaggiava il 36 anni L'impatto fu violentissimo La Renault Cactus Prese il volo Superando il guardrail Per poi precipitare Dal cavalcavia Un volo tragico Di diversi metri Che causò la morte Sul corpo del giovane Lucano Nel processo di secondo grado L'avvocato Soriano Difensore di cavallo Aveva accordato la pena Ad 8 anni Il 36enne pollese Tra i primi a essere arrestati Dopo l'entrata in vigore Dell'omicidio stradale Rischiava fino a un massimo Di 18 anni di carcere Considerate le varie Aggravanti In primo grado Era stato condannato Invece A 10 anni di reclusione Lasciamo anche questa pagina Il quotidiano del mattino Ci spostiamo ora Sul quotidiano le cronache Pagina dedicata al Vallo di Diano A Sassano Rischio e sondazione Del fiume Tanagro Pellegrino Inerzia degli enti preposti Numerose segnalazioni Di fide Incontri per la polizia Di un corso d'acqua Senza alcuna risposta concreta E quanto denuncia Il sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino Che lamenta La mancata polizia Del tratto del fiume Tanagro Che rientra nel territorio comunale Di Sassano Tale inerzia Sottolinea Pellegrino Primo cittadino Tale inerzia Sottolinea Pellegrino Primo cittadino E presidente del parco nazionale Cilento Vallo di Diano Alburni Determina una continua minaccia Di esondazione Ogni qual volta Ci sono delle piogge Un po' più abbondanti I comuni non possono agire In quanto la norma È particolarmente complessa E coinvolge numerosi enti E la dimostrazione concreta Di una burocrazia Che su temi ambientali Non determina tutela E valorizzazione Ma avversione Abbandono Bisogna al più presto Mettere fine alla stagione Dei pioppi Tripli Quadrupli Infiniti pareri Che provano Un continuo e costante Scarica a barile Mettendo i sindaci Con le spalle Al muro E poi Il fatto Provvedimento Emesso dalla questura Tre divieti Di ritorno Nel Cilento Continua l'attività Della Polizia di Stato Per contrastare i fenomeni Che creano turbative Per l'ordine Sicurezza pubblica In tale ambito Il questore Della provincia di Salerno Dopo attenta Valutazione Ad esito Di una puntuale Struttoria Effettuata dal personale Dell'ufficio Misure di prevenzione Della divisione Antimafia E anticrimine Della questura E' emesso Tre provvedimenti Di divieto Di ritorno In alcuni comuni Del Cilento E Valodidiano Per mesi due Di altrettanti Pregiudicati Cosvariati precedenti Per reati Se da alcuni Ad alcuni mesi Mali Con una discussione Non ti vuole Un messaggio Di riempito Salerno Il fronte Nel campo Alla rechi Ci saranno quasi 2000 panchine 971 presenze Per il tecnico Granata 883 Per quello Rosso-blu Sono i veterani Della serie B E con il calcio Si conclude Quest'edizione Della nostra Rassegna Stampa Io vi ringrazio Per l'attenzione E vi auguro Una buona giornata Grazie a tutti